Campagna di ascolto che oggi ci porta a Terra Nuova. È un momento questo importantissimo per il Consorzio di Bonifica perché in questi incontri che noi programmiamo gli interventi da fare per l'anno successivo. Si parla di manutenzione ordinaria, quella manutenzione attenta, precisa nei nostri corsi d'acqua che spesso viene poco percepita dal cittadino ma che è essenziale per garantire la completa funzionalità idraulica dei nostri corsi d'acqua. Ci sono i tratti annuali come il tratto del torrente Ciuffenna proprio qui all'interno di Terra Nuova o il borro delle ville in località Le Ville che quindi vengono manutenuti annualmente per quanto riguarda la manutenzione ordinaria. In aggiunta per quest'anno avremo altre parti del territorio comunale, per esempio il borro del Tasso a partire dalla confluenza in Arno fino a una parte a Monte e altri tratti di affluenti del borro delle ville come lo Scuragnolo o il borro della Selva e lavoreremo anche sul confine del territorio comunale sul borro della Renacciola. In aggiunta a quelli che sono i corsi d'acqua che escono per frequenza nella manutenzione, anche un tratto del borro di Montemarciano che costeggia la strada comunale. La tensione posta di fronte alle nostre richieste è massima e quindi spero che la collaborazione, così come negli anni precedenti, sia profilo anche per questi e i prossimi in maniera da essere più tempestivi sulle risposte a dare ai cittadini. Il nostro è anche un territorio delicato perché si trova a valle del Prato Magno e quindi è qui che confluisce tutto e qui che bisogna che siano ancora di più i fiumi tenuti in maniera corretta proprio per garantire il corretto riflusso delle acque. Questi interventi ci danno ampia garanzia sulla gestione del retiroidrio.